ciao 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 a tutti ciao ciao a tutti allora vi faccio tanti auguri buone feste di buon natale vi faccio tanti auguri qui da dal mio negozio faccio tantissimi auguroni buon natale buone feste oggi è la vigilia e niente qua sclaxonano le macchine e siete pronti per pandori panettoni e cappelletti beh qua si mangiano i cappelletti poi dopo è vero ogni ogni posto ogni ragione ha le sue tradizioni ma andiamo molto cappelletti in brodo eccetera niente dai un salutone grande grande tanti auguri a voi e le vostre famiglie ai vostri amici e tutte le persone insomma tutte quelle persone a cui volete bene e niente ciao ciao ciao